allora mettiamo chiara una cosa sono in questo momento non sono da solo c'è il buon valerio che il cicerone di guys gone eccetera eccetera valerio ok queste saranno siano credo le prime tre ore vampir tre ore qua massimo dei vampir non penso neanche le monterò blind run totalmente per mia conosco il gioco di malafama perché è stato massacrato dalla critica io non ho visto praticamente niente voglio andare io sono del tipo assumi delle responsabilità di situazioni già cominciamo queste stesse domande si deve stare attento alle scelte lo so infatti dicevo questo gioco mi ricorda tanto di deus macchina però io che ne ho finito ci sono bene un po si capisce due diciamo da malità cattiva che se il vampiro modalità diciamo dottore no ecco io diciamo di solito tecnicamente vado subito con la dottore dico è ma sono buono non sono capace ma del dottore no che ti annoi e se che devi curare solamente la gente rinuncia al tuo potere di ecco io diciamo che sta botta a sta botta essendo il cattivo tu sappiamo il cattivo che fine fa la fin fine non è cattivo è un cazzo stavolta prega un cazzo fai come vuoi guarda quello cattivo non lo so e non l'ho fatto una volta voglio provacce allora la prima cosa che già stavano morendo la feste che senti io se uno si deve nutri in questo io come vampiro sei un animale tecnicamente quindi ma non è troppo al fammelo abbassare un pino va qui forse la musica ecco abbassato lampo la musica 5 poi questo è un altro attore che già l'ho sentito questo doppio gioco ma che cavolo ma che si non è nuovo manca a me magari è basso quello di video siamo 5 5 4 3 quella della musica allora c'è solo un problema di questo gioco ci ha parecchi dialoghi troppo tanti molti dialoghi da quello che so su tanti dialoghi molte scelte per la prima volta farò la scelta è presa ucciderò qualsiasi cosa l'avanzamento ecco guarda modalità gioco originale l'avanzamento del personaggio più veloce succede i cittadini la difficoltà dei combattimenti realizzato è correlata al numero di vicoli cittadini che uccidi gioca vampiro modalità più internazionato potere quanto vivere vincolati cittadini che decidi di abbracciare i problemi ci sono più difficili uccidono no andiamo normale che me e sto già sto già ripensando sul fatto di uccidere allora guardo quello che mi ricordo stavo a livello 11 più o meno potrei pure sbagliarmi eh stava un qualche cavolo livello 12 non dico imitarlo in metà vita ma quasi eh potrei pure sbagliarmi ah quindi è talmente sgravo il cambio di livello potrei pure sbagliarmi non ci gioco da un fottio di tempo allora ambientazione siamo nella londra del 1918 da quello che ho capito no bella ambientazione sono bella diciamo siamo un medico che è diventato vampiro guardate il titolo del il film del film la regina rossa rieccola cos'è il trono di spade un po' di spade Perciò per interpretazione quando non c'era il motivo di essere trovato. Quando la religione ha perduto, gli uomini hanno tornato a la scienza. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to hell? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Questo è vero. Vediamo troppo svelto sulla peste. Quindi è una Londra diciamo sotto la peste. Sì, 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 sì. Sì. Ari, ecco sta roba leggiosa. E basta, oggi ho già avuto la mia faccenda con Days Gone. Eh, lo so. Ne evitai delle belle, guarda. Sì, non spoilerà. Ah, madonna. Eh, beh, una massa dei cadaveri. La fa, la... Come si chiama? La ferno, non so che cavolo ero, non mi ricordo. No, è una ferno. È la peste. Se c'è stata nerata è peste. E queste sono fosse comuni. In teoria dovrebbero bruciare i cadaveri se vogliono sopravvivere. Eh, non lo so. Ma... E alcuni sono freschi. C'è ancora la carne addosso. Eh, su via, un dottore, non hai visto i cadaveri? Dove hai preso la specializzazione? Mi dica. Io avrei vomitato la stessa in quell'istante appena mi svegliamo. Dove hai preso la specializzazione? Non hai mai fatto la disegnazione del cadavere? Non voglio. E' su. Bello il tocco bianco e nero, però. Magari è un po' troppo in fase su queste particelle. Non lo so, non lo so a me. No, ma ci sta, ci sta. Sta benissimo, sembra un film vecchio... Forse è come se lui stessi in assidenza, in anemia, no? Sì, sì, può essere. Come l'effetto, sì. Buon diverso. Io ho già visto un attore del genere, ma non mi ricordo. Sembra davvero quello di Deus Ex. Come si chiamava? Che cazzo è? Vaffanquore, la wind. Ehm... Non mi ricordo il nome. Johnson. Johnson... Non mi ricordo. Deus Ex è anche quello che vorrei tanto finire, ma è lunghissimo. Troppi cazzi da fare quel gioco. Troppo stelto, troppi dialoghi. Oh, vedo un cuore un pulsante. Vedo la mia prima vittima. Mi scusi? Signorina? Signorina? Ehm... Jonathan. Madonna... Perché non lo fare... Signorina? Non lo fare... Cioè, non lo fa di qua lui al personale, ma perché? Non sente niente. Lui vede solo... Ah, è come cosa? Ah... Ma capirai perché ti sto dicendo non lo fare. Aspetta, non mi dico che la conosciamo. Oh, peggio. Gli sta di... Lo sapevo, lo sapevo. Gli sta di lei in inglese. È la moglie. La piazzata. No. Figlio. Allora, ma te lo dici, ma te lo dici. Mi fermi. Oli, eccola. Si vede incazzano, vabbè. E il cuore smette di battere. Ma che capisce chi è? Dici, oh cazzo. Sì, all'inizio l'ho visto. L'unica cosa che ho visto all'inizio. Che mo' cerca di salvarla perché alla fine si è un medico, no? Ah, è la sorella. Eh, mo' che si rende conto. Oh, che cavolo che... Eh, ma devi considerare... Eh, lo so, non l'ha fatta apposta. Ma devi considerare che lui è come vampiro. Cioè, questo non viene mai... Vedi, vedi il dottore. Vedi il dottore. È come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? Poi lui ora si è appena svegliato. Non si è reso conto che era un vampiro, eh. Eh no, ha agito distinto, no? Te l'ho detto? Sì, sì, sì. Come di licantropi? Perché massacrano? Perché ammazzano e magnano? Eh, sono animali. Si nutrono. Agiscono distinto. Anche lui ha agito distinto come un animale, come un vampiro. Si deve nutrire per sopravvivere. Certo. Non credo che questo gioco abbia comunque un epilogo decente per noi, eh. A prescindere da quello che facciamo, secondo me. No, vabbè, non posso dire il finale, non posso dire niente. Soltizi. È orribile. È un nemmeno. No, è la realtà. In piedi. Ecco là. Chi è? No! Sì, per favore. Mi raccomando. Sì, per favore. Ah, t'ha preso testi. Eh, sì. Eh. Assassin's Creed. Ma è che è troppo basso, no? È proprio ad alzare il volume dell'audio. Pure lo alzavo. Oh, posso, è proprio il volume della musica, più di altro. Perché se ci siamo a 5, 7. Non devi dire a me. Oddio, è coso? Il doppiatore, eh? Porco, è che l'ho sentito, oddio, è coso. Non ho diso, sì, mi sono diso, ono, red. Non mi ricordo. Non è diso, ono, non è diso, ono, red, perché noi l'abbiamo sentito in italiano. Conoftulu! Conoftulu è lui, protagonista di Conoftulu, è lui. Eh, ecco dove l'ho sentito, eh. Non mi ricordavo. Se non mi sbaglio, lui è. Vabbè, tranquilla la cosa, tanto non mi stanno a sparare. Ah, sì, non mi stanno a sparare, ecco. Un po' di accento in inglese ce l'avrei messo, eh. Accetto in inglese è spettacolare, alcuni sono spettacolari. L'amico mio di Inghilterra... Inghilterra ti farebbe tagliare quando mi parlo in inglese. Oh, la so, la so. Oh, mia dolce Mary. Eh, la so. Ma ci avete usato. Allora, ecco il problema di questo gioco. Il sistema di combattimento, la prima cosa che hanno detto. Non è male, cioè non è brutto. No, c'era una tiposa. Oh, prova, guarda, se ti piace. No, no, se non lo ho trovato... Normale, carino. Diciamo che è un amministo alla Dark Souls barra qualcos'altro. Boia, chimico... Perché? Che, tra l'altro, i cattivi sono apostoli di San Paolo. Io, magari, non so così religioso. Non so, però non mi ricordo che San Paolo ci avesse qualcosa contro i vampiri, eh. No, aspetta, ma andando avanti, che troverai? Vabbè, troverai un amministo. Sono San Giorgio, c'è una versione per i draghi. Cioè, San Cristobro, che dovrebbe essere quello dei soldati. Andando avanti, troverai un amministo che è una specie di bastone santo. Un amministo del genere, c'è. Santo! Ok, questo è forza. La luce, la luce. Mamma, pare che sono santo. Fai attento sempre alla stamina, questa sembra zero. Ah, allora è Dark Souls, uguale. Tieniti sempre uno spuntino per schivare, uno spuntino di stamina per sentire. Ma sì, ma sì, ma non è il mio primo rodeo, Valerio. Calmo. Sì, dei fanzi carri! Per favore, stop! No, mi ricorda... Cosa? Come si chiama? C'era un videogioco simile. Ma non mi ricordo come si chiama. Ma io vado di qua, invece. Sono esploratore. Sono ribelle. Il mio fiuto da vampiro vi indico qualcosa. Mi pizzico nei sensi da vampiro. Ah no, si rigenera la salute. Ah no, però c'ha... Ah, è come coso che oltre a una soglia non ti si rigenera, ho capito. Uccidilo. Il sole? Ah, allora è classico. Sì, sì, sì. È classico vampiro. Quello romanzato. Sì. Ok. Il sole è male. Da una gravata, vedi? Che risucia la tua maniera... Ah, infatti, quello che mi aveva fatto con la pe... Con la cosa, come si chiama? Con la polvere mi ha fatto danno. Probabilmente è tipo sale o... C'era un nitrato di argento? No, un'altra cosa. Eh, sì, è lui. Mi fai andare! È proprio quello di Call of Thule. Non fai a vederli dietro al muro, non ci sono. Dov'è? Ahah, sono sempre stato qui! Coglioni. Ok, sì, sì, t'ho capito. Ok, dentro qui si è al sicuro, quindi... Che però... Keep out, che vuol dire allontanarsi... Eh, lo state lontani. Che c'è questo posto? Mi sbaglio, dentro qui... Questa vera roba di... Chi è morto di peste... Quindi tengo lontani quelli che ci fuggi. Che sono infetti, chiamano... E lui ci può stare tranquillo. Eh? Cioè, è una safe house. Ma la... La... La tiny light. Sì, perché non sta solo lui. Che cos'è? Ok, è un ritratto. Flashback. Oddio. I miei occhi. I miei occhi. Eh, sì. Altro che lui vampiro. Io so vampiro, Cristo. Che c'hai fatto? No. Mary! Vabbè, appena trasformato, c'è i rimorsi. I'm sorry. Chiunque ci abbia fatto questo, tu lo troverò. Sei stato tu, idiota! Non è che perché sei diventato vampiro. Perché hai agito di impulso, di... Di coso, di... No, lui dice... Chi mi ha trasformato in un vampiro? Eh, che cazzo cambia? Non è che ti può far tornare normale, eh? Eh, lo so. Che è stato? Allora... Le sanguissime non termano il sole... Termano il sole e il fuoco, se non sperisco di un nucleo di genere che fiamme quando vengono i vestiti. Ma questo è proprio quello delore. Ah! Le sanguissime... Non muoiono, però! No. Bruciano, ma non muoiono. Ah, no, aspetta, no. Aveva iniziato lentamente a disintegrare... La rigenerazione dopo l'altra volta... È tipo Wolverine! Sì. Oh, no, Deadpool, Deadpool. Deadpool è più simile. Wait, what? Lo so, ho visto? Oh, God. Eh, sì. Eh, perché stai dicendo... Vedi? Eh, perché stai dicendo che non è male, eh? Cioè, è bello. Ti deve piacere questo... Questo è coso? Sembra... Questa è una rete sociale. Stato di salute, disinfettato in salute stabile grave critico. Eh, sì, in poche parole, tu se sei un medico... Jonathan Reed. Ah. Le armi... Ah, queste sono i collezionabili. Ok, debolezze dei vampiri. Aglio? Non è vero. È un mito anche quello. Bottia di alcol. Scolatela. Se ti posso dire. Mmm. Casa del decesso. Eh, c'era bisogno di una pulitura delle texture qua, eh. Eh, lo so. Però, sti cazzi. Oh, vabbè. Eh, come facciamo nei tempi? Guarda un po' questo. Sto cazzo T'ammazzo Guarda Non è brutto Prendere ai morti Vero? Italiani intensi No non è vero Mi dissocio Mi dissocio Ma appena sul collo C'hai segno? Dall'altra parte ce l'ha Dove c'è il sangue Ma che non aveva Mi c'è che è ricordato Nightfall Nightfall è il canale della notte Dusk è il crepuscolo Scusi? Che facciamo? Sbagli traduzioni? No Eh no Potremmo Vediamo se fa una scena Allora se è vampiro romanzato Non potremmo vedere il nostro riflesso Mi sa che no Non mi ricordo No lo vede No lo vede Perché si sta controllando Non so perché questa regina rossa Penso la regina rossa sia qualcosa D'altro luogato ai vampiri Forse una casa di divinità Oppure una vera e propria regina Carmilla Mi viene in mente la figura di Carmilla Che era questa Di solito la maggior parte delle volte in cui appare una Carmilla È una vampira Un po' raccontata male No ce l'abbiamo Un riflesso ce l'abbiamo Anche se è sporco Quindi in teoria ce l'abbiamo un riflesso Però non moriamo al sole Ma veniamo indeboliti da esso Cioè veniamo feriti Un drogato Ma guarda un po' Che cosa abbiamo doc O non lo mangia Guarda Lo mangia Eccolo No Pistola Una bella calibro Non lo so che cazzo il calibro sia È una rivoltella Credo Ed era un soldato Chiaro Perché tutti i medici Avevano fatto una cosa Il soldato Sì 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 Che nonostante abbia giurato di guarire Ha ucciso Adesso si spiega molte cose Essendo un medico Se è contenuto No Sendo un medico è il contrario Non credo che il medico Non credo che il lavoro di un medico sia uccidere No ma in questi casi di peste Ah ma di peste dipende da che peste è Peste nera Ce ne stanno dei tipi di peste Sì Se è quella aggressiva avrà amputato non so quante braccia più che altro Poi dipende dal tipo di peste Certo Vabbè Dormiamo Poi riposare Aspetta Oh god Ti racconto la storia di questi due poveri Ha parlato del battito Questa è male Bollirei meccanico hanno finito di scavare la fossa comune Blah 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 Beggy mi ha quattro credito Si è manciato il mio suddiscale Ha cercato di mordermi Ah era una vampira quindi Sì E lui mi sa la teneva nascosta Capace di salvarti Presto saremo di nuovo inziano Poi l'ha uccisa E poi si è suicidato Poi si è suicidato Ok In classica storia Non aveva il coraggio di uccidere Poi è stata costruita Sei un medico Sei uno scienziato Pensaci Pensa Agisci E ora dice E se per capo Eh sì certo Guarda se scopri che ha alcolizzato È uguale a quello che dico lo stuto È uguale L'alcolizzato è drogato Era quello di Coloftulu E ora vuole fare un piccolo test Andiamo un po' So be it Ah finisce così? Ah già finito il gioco A posto Mi dissocio Ma se ti devi sparare Sparate la testa No al cuore Devo essere razionale Non spargo del proiettile Finisce il gioco Finito Vampire Da qui all'eternità Ah È un marchio Non ho capito perché è una Y È un marchio a fuoco Forse è il simbolo Di qualche setta Mi sa che no Un giorno Sprendore Che si fa per di però Eh vabbè Eh no Niente Il punto però perde sangue È quello che non capisco Perde sangue Quindi tecnicamente Non è uno morto I cosi vitali ci sono Cioè I funzioni vitali funzionano Il sistema linfatico c'è Il sistema sanguigno c'è A posto Sta a sentire le voci Evoluzione Letti ti consegno di evolvere e riposare Spendi i punti esperienze Se gli livelli migliori le tue abilità Vampiresche Autofagia Inizia L'abilità Se io voglio prendere qualcos'altro Che cazzo Eh sì L'inizio ci costa qui Guarigione Ah beh sono le fischette Estus Sto detto No non è bello Mi dissocio Vampire usa il potere del sangue Per curare i danni aggravati E normali Per aumentare la riletrazione Di le sue carni Di le sue nervi E delle sue ossa Quindi c'è anche il sistema nervoso Che funziona Può diventare estremamente potente Perché le sue nervi Non è vero Pensiamo che i vampiri Possiano il mortale Ma è vero Ma se si posso Si riesce a bloccare La loro capacità Di generarsi naturale Guarda di quanto pensi Questo sarà Quale sarà Come funziona Qual è la sotto e sopra Il sopra cos'è L'essere umano O sotto il vampiro Allora vai sopra Passive Vai sotto Allora sopra Perché se non mi sbaglio Guarisce di più Vedi Guarigione 100 No qua dice Usi più sangue Ti curi all'istante Guadagnare un aumento aggiuntivo Della rigenerazione Qua dice invece Ti curi Istantaneamente Per la rigenerazione Allora Il momento Tanno qui ci deve ancora arrivare Quindi No ma siccome Sono divisi in due Penso che sia Ho detto Qual è Una sarà la cosa Da essere umano Un altro no 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 Non c'entra Ah ok Potenzialmente Uno dovrebbe Schettire pure di più L'altro dovrebbe Ah no pensavo fosse tipo Preno Che c'hai la cosa No 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 Ah no c'ho due punti abilità L'altro puoi potenziare sopra Vedi Dove sta l'artiglio Devo per forza Sì 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 Non so che atta unico Se ne attacchi Sì Sì Posizione L'umore di piedi Di avversare I tuoi Ognuno ha esprimato Il loro danno pesante Io ho usato L'artiglio Io uso la lancia Che va più umano L'artiglio lo userei Però Sì ma poi Ti devi prendere tutti Se vuoi Ma L'enso tipo Nel senso Non li posso usare insieme Possiamo Vedere sono uno No Le puoi usare più di uno Allora Siamo a posto Sì 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 Ah no Ha detto conferma Ok Solo due Credo Però vedi Le ferite rimangono Quindi non c'è una rigenerazione Passivamente come World Rigenerazione di tessuti Ma quant'è verrà spiegato Nel porto Nel porto dell'estin Sì Ok Sotto sta Mi sta massacrando Vedo che non abbiamo letto Dracula Chi è? Giù giù Sai che sono sempre quelli Mi sa che ti cerco Eh sì Eh sì qui Devi andare dall'altra parte Tranquil Vale Non fa backseating Per favore Non fare il backseating Cioè Non fare Quelli che stanno al cinema E gridano al film Come me Siete da sportati Oh mio dio Lo sapevo C'erano tutti sti cazzo Di poteri vampiri Ma com'è? E vi scrubbannari Vabbè Ah anch'io Vabbè No Sto scemo Voglia di vivere Stai scappando Sei un cotardo No È voglia di vivere Ariek Un altro coltel Paletto usato Consumano Consumano energia Farmi la lancio praticamente No Ah no Gli attacchi Oddio E coso C'era un gioco Un'arma secondaria Un'arma normale Dove l'arma secondaria Faci dei danni Cos'era? Non mi ricordo La porta è stata E niente Londra Piove Ah madonna Vabbè L'inizio Non me lo so Ti porto Buon divertimento Va là Che passo Si ricaricano Però ti consumano il sangue Jesus Non palato Aspetta che scendo Aspetta che scendo Aspetta che scendo Ma scusa C'ho un revolver Gli posso sparare? No è Stronzo Eh penso Eh 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 Troppo Sai che ti fa un po' male Ah no Questi con la torcia Danno un fastidio Guarda Guarda che sto fa danni Sto facendo danni? A morde? Eh Un pochino Un pochino di danni No nel senso sto facendo danni con la storia Se volevo cambiare idea No 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 Stiamo avanti Ora stiamo andando Penso che i piazzaggi principali No no vada Ti dico io quando Sceglierai il buono o il cattivo No Ti puoi dire Non si vede nemmeno Il lancio della cosa Parte di impugnatura normale Ok Ah poi bevendo il sangue Mi si rigenera Mordendoli mi si rigenera La vita Quella rossa Quella rossa Nei potenziamenti del morso Di fuori del raffreddore Guarda Io che devo dire Che sono allergico Che cacchio Io ho fatto Ho detto io Se sta primavera Sarò rinchiuso in camera In casa Perché se esco Mi prendono Me infettato Con me Io Lavorso Sempre per strada Non c'è Se mi vede Io ho Con lo mio nonno Mi faceva Dieci Starnuti Uno dietro l'altro Alle volte Per for me Non sta capitando Ma se capita Durante Che cacchio Li devo dire Fatela spiegare E gli dico Allergia A parte che Non si dovrebbero preoccupare Perché se tu C'hai la maschina E se stanno a distanza Non si dovrebbero preoccupare Se stanno a preoccupare Perché non stanno distanti Nel bar Capita Però No a me Stamattina Sono andato a fare colazione Al bar Perché la stavano facendo Una cosa Stavano mettendo La stufa nuova in cucina Ma Sono andato Al bar Mentre facevo colazione E' entrato uno senza mascherina E si è messo La mascherina dentro al bar Che cazzo te la metti Dopo che sei entrato Mettitela fuori C'è da dire Che comunque Con la mascherina Non si respira Eh lo so Ma quella Te la devi mettere Vale Dovemo fare tutti i sacrifici Oh che lo dice Però Porca E' un po' brutto Ma C'è Otofini Mi puoi uccidere Poverini Eh se vuoi Ma no Ma perché Non ci sono Ne ho mai uccisi Poverini Sono brucioso Io l'ho pure preso Uno in mano E dopo Selvatico De ratto Mi madre mi ha strinato contro Perché hai detto Se te mordeva Era la fine Appunto Io ho fatto Vabbè Non esagerare A parte che l'ho salvato Dal mio gatto Da Maya Era ferito Voraccio Stavo a sanguinare L'ho preso L'ho spostato Perché non le ho detto Ma che siamo Pazzini Ma no Perché io sono abituato A trattare Quegli animali Che mordono Io prendevo i serpenti In realtà non è vero Io prendevo le lucertole Ma anche quelle mordono Perché ho trovato Una salamandra Una volta Che cazzo No devi andare London Ma quello lì Ma dov'è che l'ho visto Quel Questo Questo che Vabbè a destra A destra A destra A destra Questa è Washington Nera Quel che indica col dito La vedi il battone Ah lo zio Sam Sì I need you Sì No Adesso è un'altra Vabbè Inglesi Inglesi No vabbè Ma gli inglesi Più che altro Per arrullamento C'avevano Per farlo Per King e Contri Cioè per il re Re Giorgio No Ma è che posso Fai salti No devi saltare Ah ok ci posso fare Non è parso prima Oh dio Questo non me lo riguardo Perché fa così Eh credo sia normale Penso per caricare l'aria No è normale Ogni tanto C'hanno qualche gioco C'erà sti problemi Sì è capitato Non è che in un altro gioco Qua mi sa che puoi sbloccare la porta Vabbè no Non mi sbaglio È un vampiro classico Non puoi entrare Allora Se è un vampiro classico Non puoi entrare Nelle case altrui Se non è stato invitato Una delle regole sacre dei vampiri Però quelle cose romanzate Oh vabbè Se è per questo Van Helsing La mia persona C'è un motivo Se Van Helsing La mia persona Ma in realtà È tutta la questione Della drama La tua l'ho scelta La sto creando piano piano Un giorno Un giorno Più avanti Un giorno Monumento Sto registrando Te la spiegherò Ci faremo qualche Tra che Per sentire I tuoi pareri Ho tantissime Tantissime Non rispondere Non posso entrare Te lo dici tu Oh una porta aperta Attenzione Porto di Lime House Un'altra 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 Le varie strade di Londra Si è diventate un mausoleum E' una donna No un uomo Marinaio C'aveva una salopetta Da vittima E' stata colpita Alle spalle Si E' per questo Questa erra Il manco Ha stato spiegato Di tutto il sangue Ma posso ancora Smirare Il senso Ma perché E' capacissimo Che sia totalmente Il contrario Poi è convinto Che sia solo Una persona Oh E' anche qui C'è del sangue E' sì Perché è andato Penso dentro là Non mi ricordo So che sono le fogne Qua Non me lo ricordo Oh Dio E' un mattatoio E' un mattatoio Eh vabbè ma Avete rotti i coglioni E' che cazzo E' qua Ah Quindi Qua Qua si rimane Ah Quindi Stava qui In poche parole Sto Sto Chiunque Sto Si Penso che Dormila Questa Abbastanza Piccola Ma l'impruta Di un bambino Oppure Può Può essere il poverino Che la strascina Non lo so E' perché La serena nutrita L'ha spostato qui Allora Non avrebbe senso No l'attacco E' partito qui Probabilmente stava salendo sulla ghiatta Vedi c'è un rimo accanto E probabilmente è stato preso alle spalle E' stato divorato E poi si è trascinato via Con il sangue che colava Madonna che cazzo I detetti Devo entrare in polizia Cazzo Io puoi stare lì Poi stare lì Che figa E' più comodo Non lo so Piove Dove cazzo vuoi andare Piove C'è la peste Di tutte le piole Dove ne possono stare Al calluccio A farsi cazzi loro Punto Ah questo non è disponibile Sì va va Non mi ricordo Trovi sempre qua Ah che c'è la luce Ma Cristo Ok vediamo che troviamo qualcosa Trovi sempre qualcosa C'è una cesta Aperta per una volta Parte di un grilletto Oddio c'è pure crafting Goti No Gli fornisci tutto E' la tua basco Non troverai munizioni Ok Penso che inautomaticamente Andranno qua E poi ti rifornirà Ah si si posso capire Non è il mio primo roteo No però sta cosa Alla cinematica Ti ho Ti mi fa veramente I tempi di scuola Che c'avevano La lampada A neon Che faceva così Tutti i giorni Per 360 No Per l'anno scolastico Sta lampada Che fa così E io c'è stavo sotto Tu va Quando andai a voi A scuola C'erano Cioè letteralmente Le sbarre di ferro Anch'io Alla finestra Cioè Anch'io Sconosciuto Qualità del sangue Cosa Che siamo il sommelier Cioè 60 anni Dai È invecchiato bene Diciamo quello lì A furia di bere Non penso Di una Tocco Torquistortle Non ti fai Delle domande Che sia sporco Di sangue No Ah ecco Cosa Le cose Prendi Cosa Sotto Relato Ah ecco Sottotitoli Ho rinvole Loro Mi Hovi Che Ho Non Si Non No No Non mi importa, questo è un paese libero, le persone hanno ancora il diritto di venire e andare, non è? Cosa sta succedendo? È come che tutti stanno scendendo Non ho mai parlato? Non ho mai parlato dei murdi? Tutti fanno l'esterno delle fogne Ecco perchè stava sotto le fogne Chi è questo fogne? È un bogeyman locale Spauracchio Concerciacula Ehi E' più facile che accettare l'oscurità di dent Bravo, sagge parole Sagge parole Siamo tutti animali Fatte il drink anche per me, frate Mi scusi Oh, Dio, signor L'eserciò sempre tutto E devo prenderti un drink? No, grazie Non sono... Non freddo Oh, prendi una scena e prendi qualche resta Questa sarà una lunga notte Da notare è il statuaggio a forma di cosa marina Di rosa dei venti che si usa nelle cose marine Marinaio Forse è un ex marinaio Ups Amici Un sacco di Chia Che 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 Sia Attenzione, Fab e Bar, sono due cosi differenti, ti ammazzerebbero. E quel cazzo siamo, ci sta anche Jack lo squartatore. Sto cercando a qualcuno che potrebbe essere passato qui recentemente. Pensavo se potessi aiutare. È stato caldo oggi. La sola persona che ho vedo, è venuto all'interno alla sua sala. Pensavo che fosse abbastanza brutto, in realtà. Sto dicendo che è ancora qui? Beh, sì. Ha pagato tutta la settimana. Chi è questo uomo? Cosa sembra? Beh, sembra un uomo, credo. Certo sordato, abbastanza polizia. Classico vampiro. Gentile uomo, vestito bene, ricco, snob. Ho bisogno di incontrare questo uomo. Ho... questioni. Ho scoperto le stagioni e chiamato la prima porta. Ho sentito aprire la finestra, quindi credo che è ancora uomo. E, ehm... Sì. Non cazzo. Ti senti? Questo è un istituzione rispettabile. Guarda questo uomo quanto è rispettabile, che non lo vedi? Questo è... Sir... Ubriacon... Sir, bottiglia vuota. Sir, ubriacon... Wisconsin... Bourbon... No, non mi viene più... Non mi viene più la battuta. Signorina? 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 Le mostro i canini, signorina? Dove sta qua? I miei occhi sono qui, signorina. Si giri. Magari se fossi sporco di sangue, magari non la spaventeresti, no? Non lo so. Niente, ci abbiamo provato, niente. Non siamo bravi come vampiri gentili uomini che seducono le donne. Signorina, se viene solo e fa le mostre i canini, signorina. Signorina? Una conciocio... Prendi... Aspetta, aspetta! Prendi una cadrega! Prendi una cadrega. Prendi una cadrega. Ah, ah, sì. Try one. Un'altra, chissà chi sarà. Ci sono vampiri buoni per caso? Sì. Ah, posso. Questa qui è più... Potremmo venire in chiunque sei. Shit! Mi ha fatto schifo in stealth. Dovevi aumentare la dext. Slowly, vampiri. Ma dove sei? 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 Stordisce. Sì, lo blocca. Sì, lo vedi. Si sieda. Prego. Si segga. Lo vedo pallido. Si segga. Oddio, dimmi che non è un psicologo. Dimmi che non è un prete. No. No. Non si scopre che è Van Helsing. Van Helsing, in alcune versioni, è un dottore. È un ricercatore, un professore. Una cosa del genere, non mi ricordo. Sconosciuto. Sconosciuto. Premi i dettagli. Dottor... Era uno sconosciuto prima! Come facciamo a sapere il suo nome? Edgars1c. Leader? Eh, sì. Prima lei. Mi dispiace. Sebb normale. Sì. Sì. Che. Sì. 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 è un lupo mannaro stupido sta cosa i lupi mannari i vampiri le credo non la credo aspetta no la credo si può dire anche aspetta che perché ho dovuto staccare e ho spezzato il video per vedere se che tra un po' dove la stacca si partiva rumori di murdelli violenti i docks hanno sempre stato diciamo un po' insavore ma questo è diverso come diverso un vampiro è a lavoro qui famigliato e non è vero deve essere portato in grado e velocemente e cosa esattamente è questo broderhood broderhood degli assassini non risponda con una domanda senza dettaglio ho sentito un'altra voce quella di una woman di una maniera chi ti parla con una maniera ridicolosa ho no idea cosa ti parla mi dice non ti confronto esattamente e il sentimento è mutuo ah ci manda pure a quel paese come dire sconosciuto in salute leader di questo ospedale allora aiutami a trovare il culprato io posso? se tu prima mi racconti perché hai abitato questa porta ho seguito un trale il sentimento di blu di una vicenda mi ha portato qui pensi che ero il tuo aggressor non sono sicuro e poi non mi fido si ma due occhi in più son meglio dopo un vampiro che caccia un vampiro dove ho già visto sa cosa ucciderlo no esigo risposte mmm entrambe sono buone per me però non lo uccidi io esigo risposta fai tu perché alla fine è come mass effect qua c'hai la parte qua probabilmente sarà quella cattiva questa è la parte buona e questa quella neutra io mi sono io mi sono sempre risposto lo ucciderò non so se cambia se esigo delle risposte vabbè io esigo delle risposte e poi si per capire agirò certo notate il rumore le cuffie fanno casino e te ne vai così tutto qui ma quello che sta nel quadro non è quello che sta sabrina non ho mai smesso di no non è no però sembrava lui che cazzo un attimo che le spiccio un attimo casa ok sabrina la strega guarda Milano come non è Milano la nebbia la pioggia non è Milano io odio il sole e amo la pioggia questo per me è vero oh qualcuno ha fatto qualcosa hai andato da qui adesso la mordo no potrei lo faccio scusi signorina ci riproviamo dai sempre con gli occhi verso di me grazie voglio la verità certo io sono gran duca questo gran funciazzo per favore per favore mi racconti cosa sta succedendo è Will William Bishop è venuto qui prima di notte e mi pensavo che sarebbe chiunque l'impianto l'impianto potrebbe essere un altro effetto come noi potrebbe essere quello che ha infettato noi che ci ha morso ha infettato più arie e più cose e questo assassino che sta uccidendo in questa zona è uno di quelli diciamo si è fatta la sua setta più che setta diciamo i suoi i suoi animaletti nuovo indizio rivela l'informazione eh si è il croftulu è uguale hai bisogno di sangue umano per evolvere la barra della qualità del sangue indica che gli ex e gli ex ecceperati questo cittadino gli indizi sbloccono la quantità di ex ah bene quindi proprio senti senti proprio il gusto questo è cresciuto bene questo è cresciuto bene ha mangiato bene più a cosa Tom Lee dà una mano nelle sue faccende più guadagna esperienza ah bene quindi rinricchisci il sangue lo sai com'è quel ritro gusto è giustamente più felice welcome back definiti quello che ero dopo magari magari sono sicuro che nessuno si è venuto in tua bar prima di arrivare ho detto che ero solo un ufficio che ho avuto bullshit Tom parlate con me della visita del tuo vecchio friend che ha usato l'abilità del vampiro quella che fa l'ipnosi può essere bu il gin un marinaio what dove è il rum finito ma perché il rum è più sudamericano portoricano quindi come share mi ha creato cinque minuti perché sta cosa perché dipende da me no penso che ci sia un limite massimo può essere che Faccio notare che sta pulendo il pavimento Che non si sta pulendo con Non so, io solo Con una dentiera Con una dentiera Poi non credo ci servono i sensi De vampiro per notare le macchie di sangue Solo quelle Le macchie Non si sa di cosa Allora, siccome sta fiando lo sharp play, fammo così Per il momento Chiudo qua, vai Con il video Poi ripartiremo qua, non so Quando io e Valerio Diciremo se mi temo, va bene Grazie a Valerio Per essere Per aver partecipato Anche se solo con la voce E vediamo E a voi a te Ciao ciao